C'è un gizzo che c'è, che testa che ho eh, eccoci! Ho già vinto! No, no, non vado, fai schifo, ma non è una pallina da tennis, no? No, no, ripetbi, dai, ho messo il piede avanti, bravo, 1-1, dai, vai, 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 dai, no, callo fuori, callo fuori, sento dei scorretti, guardi, ho mai visti, no, non è passata, 1-2, si, non è scorretto, non c'è le mozzarella, la non c'è, le mozzarella, così, mozzarella, hai tirato una mozzarella, hai tirato, se metto pure questa vado a fare la doccia, non sapevo io, Brighton Brady, non è passata, non è passata, non è passata, non te lo meriti, come no? Eh vabbè, allora facciamo un sondaggio, chiediamo al pubblico se per loro è dentro o no, ho comunque avvinto, ok, va bene, dietro la linea, oh, aspetta, ma che non vale, oh, no, vergognatevi, non vale, no, mozzarelle, mamma mia, oh, va bene, 4? Oh, tutti e due quasi, questo vale, no, al tavolo, il tavolo ha preso, eh, ho preso il tavolo, hai preso il tavolo, hai preso il tavolo, basta, quante volte tiri ho? 3 volte mi hai tirato, io, io ho due, no, è vero, 0, 0, 1, 0, 1, no, 0, dai, vai in palestra, bello, 2, 3, 3, vai in palestra, stai a 2, vai Carlo, io a 3, no, allora io a 5, ok, io a 7, mamma mia, Sì, vipata, no, 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 sii! Sii! Hai sentito? Ma no no no, ma no, è bene, quello fa uno schema con te non lo vuoi fare, va bene, ma è bello, Hai vinto bravo Matti Eh ragazzi la vittoria è per voi 1, 2, 3 Si